Sono indagati 12 misure cautelari personali per associazione a delinquere di stampo mafioso e questo è il bilancio dell'operazione di stamane denominata convenzionalmente Geolia avvenuta tra le province di Reggio Calabria, Brescia e Milano e che ha visto coinvolti i carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria e dei reparti territorialmente competenti con il supporto dello squadrone eliportato cacciatori di Calabria, dell'ottavo nucleo elicotteri di Vibo Valenza e del nucleo carabinieri cinofili, tutti sotto il coordinamento della Procura della Repubblica Direzione Distrittuale Antimafia di Reggio Calabria diretta dal procuratore capo dottor Giovanni Bombardieri Le 12 misure cautelari riguardano responsabili a vario titolo in concorso tra loro di associazioni a delinquere di stampo mafioso trasferimento fraudolento di valori e lecita concorrenza con minaccia o violenza con l'aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso 10 le misure di custodia cautelare in carcere e 2 domiciliari tra queste Salvatore Francesco e Domenico Copelli, Antonio Gerace, Domenico Ragno, Girolamo Piromalli Domenico e Vincenzo Larosa, Antonino Platerioti, Rocco Moret, Rocco Giovinazzo e Giuseppe Pelle Il provvedimento giunge all'esito di una complessa ed articolata attività di indagine condotta dalla sezione operativa della Compagnia dei Carabinieri di Gioia Tauro sotto il coordinamento dell'autorità giudiziaria distrettuale nel periodo compreso tra il mese di agosto 2018 e maggio 2020 dove è stato determinante il contributo dell'attività indivestigativa posta in essere dagli inquirenti che è stata messa in correlazione con le dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia ed altre importanti acquisizioni documentali La genesi dell'inchiesta è legata ad un danneggiamento seguito da un incendio di un panificio nel comune di Gioia Tauro avvenuto nell'agosto del 2018 quando alcuni soggetti rimasti ignoti dopo aver manomesso l'impianto di videosorveglianza di un bar limitrofo si sono introdotti nella parte ritostante del panificio appiccando le fiamme a diverse aree dell'esercizio commerciale inclusi il punto vendita e i laboratori nonché parte il deposito attivo al punto vendita A seguito del grave atto gli inquirenti hanno scoperto un complesso contesto delinquenziale nel quale i vari esercizi commerciali venivano clinicamente taglieggiati Le cosche d'Indranghete, infatti, in virtù della forza intimidratrice derivante dalla loro appartenenza al vincolo associativo mettevano in atto un vero e proprio controllo del territorio e delle attività commerciali locali mediante riscossione di somme di denaro beni e altri prodotti a titolo estorsivo Una vera e propria morsa che attanagliava i vari esercizi commerciali al punto da costringere i piccoli imprenditori a voler fuggire dalla realtà locale per cercare fortuna altrove specialmente nel nord Italia In merito risulta essere emblematico il commento esternato da alcuni commercianti Gioia Tauro il quale definivano il controllo poste in essere da uno dei membri della consorteria mafiosa dei Pinomalli nei confronti alla loro attività commerciale come l'occhio bionico a significare che gli stessi sentivano monitorati o meglio spiati dalla criminalità organizzata La corresponsione dei proventi dell'estorsione garantiva la copertura idonea alle aziende una sorta di protezione mafiosa per cui le imprese venivano in un certo senso regolarizzate Alcuni episodi di taglieggiamento sono apparsi singolari nella loro attuazione pratica come ad esempio l'estorsione possenesse otto forma di vendita di blocchetti di biglietti per una presunta lotteria per festività pasquali dal cui acquisto i commercianti non si potevano esimere per timore di eventuali ritorzioni mafiose Inoltre gli inquirenti hanno potuto dimostrare nel corso dell'investigazione anche l'intestazione fittizia da alcune attività commerciali le quali erano effettivamente gestite da rappresentanti alle cosche locali che preferivano però non figurare quali rappresentanti legali Nell'ambito dell'attività di indagine infine l'autorità giudiziaria e distrettuale ha anche emanato un decreto di sequestro preventivo del capitale sociale e del patrimonio aziendale nei confronti di sei aziende di Gioia Tauro in particolare un panificio, un lido, una concessionaria un distributore di benzina, un autolevaggio e un'impresa di rivendita di pietre di costruzione i quali fitiziamente intestati ai soggetti di Gioia Tauro mentre in realtà erano gestite dai membri delle consorterie mafiose di Gioia Tauro